Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consiglio d'appuntamento con il TG10, l'apertura del nostro telegiornale dedicata ai danni provocati dal primo acquazzone estivo, le conseguenze peggiori per la discarica timpazzo, vediamo. Il primo acquazzone estivo a Gela non ha mancato di procurare subito i primi danni che in questa occasione hanno riguardato la discarica timpazzo. Nonostante le difficoltà le operazioni di conferimento dei rifiuti non sono state interrotte. La pioggia abbattente ha provocato lo smottamento di una dorsale del costone che si affaccia alla discarica, danneggiati anche gli impianti elettrici. Praticamente ieri nel primo pomeriggio una bomba d'acqua si è riversata proprio nella zona qui di Contrada e di Impazzo, quindi sulla discarica, ed è stata una pioggia di notevole intensità che come tutte le piogge estive dopo un lungo periodo di siccità ha trovato tra virgolette i terreni impreparati a raccogliere tutta quest'acqua perché molto secchi proprio per la siccità estiva e quindi l'acqua col dilavamento ha creato parecchi danni alle strutture ma anche alle infrastrutture esterne della discarica. Come spesso accade quando vi sono perturbazioni di questo tipo abbiamo problemi con le energie elettriche e quindi abbiamo avuto questi sbalzi di tensione che hanno procurato parecchi problemi agli impianti, abbiamo dovuto staccare tutti a verificare, abbiamo avuto problemi alla pesa e agli impianti elettrici in generale. Per fortuna abbiamo i nostri tecnici che immediatamente sono intervenuti e dal punto di vista elettrico hanno ripristinato l'efficienza e quindi la discarica siamo stati in grado di poterla tenere aperta perché senza pesa avremmo dovuto chiuderla. E poi i problemi alle infrastrutture come magari avete visto dalle riprese che avete fatto negli argini per esempio della vasca ACD dove l'acqua ha creato notevolissimi problemi, ora siamo così stiamo valutando i danni e verificando come intervenire per ripristinare lo stato dei luoghi. Incidente stradale nella tarda mattinata di ieri nei pressi di Borgo Manfria sulla statale Gela Licata. Due le autovetture coinvolte tra cui un SUV ferito un 24enne trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele. Sul posto si sono portati polizie e sanitari del servizio 118. Cambiamo argomento, nuove normative regionali per le pratiche edilizie. Il punto in questo servizio. Vediamo. Novità in arrivo per tutto ciò che riguarda le concessioni e le autorizzazioni edilizie. Da oggi infatti gli uffici comunali Sportello Unico Edilizie e Suap Attività Produttive non potranno più accettare le istanze e le comunicazioni che riguardano interventi edilizi. Il motivo risiede nel fatto che gli uffici stanno predisponendo la nuova modulistica relativa alla legge regionale numero 16 del 10 agosto scorso, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana numero 36 il 19 agosto scorso. Si tratta di una norma di recepimento del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, atteso che con le nuove norme edilizie sono state abrogate sia la concessione che l'autorizzazione edilizia, nonché le modalità di comunicazione e il regime libero della precedente normativa regionale. A breve arriveranno ulteriori comunicazioni per i cittadini. Fa sapere Orazio Marino, dirigente dell'area pianificazione e valorizzazione del territorio del Comune di Gela. Si avranno presto notizie in ordine alla ripresa delle attività di ricezione delle pratiche e sensi del nuovo provvedimento regionale. La nuova legge regionale infatti non prevede alcun regime transitorio, quindi è immediatamente vigente dal momento della sua pubblicazione. Gli anziani e i soggetti portatori di handicap residenti a Gela possono presentare istanza per il rilascio delle tessere di libera circolazione AST relative all'anno 2017. Le domande corredate dalla documentazione prevista devono essere presentate al protocollo generale del Comune entro il prossimo 26 agosto. Il modello è disponibile negli uffici del segretariato sociale in Viale Mediterraneo. Le famiglie gelesi degli alunni delle scuole statali e paritarie possono presentare istanza per l'assegnazione delle borse di studio relative all'anno scolastico 2015-2016. Lo ha reso noto l'assessore comunale Servizi Sociali, Licia Abela. La domanda di partecipazione unitamente sui allegati dovrà essere presentata appena di esclusione entro il prossimo 30 settembre ed esclusivamente nella scuola frequentata dallo studente. Al beneficio delle borse di studio possono accedere genitori o altri soggetti che rappresentano il minore, ma anche lo stesso studente se è maggiorenne, appartenenti a famiglie in possesso di un ISEE, indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 10.632,94 euro. I moduli di domanda vanno ritirati nella scuola frequentata dallo studente o possono essere scaricati dal sito internet del Comune di Gela. Da 7 gli istituti comprensivi della città passeranno a 5. È stato infatti approvato il dimensionamento scolastico cittadino che tanto ha fatto discutere in questi mesi e che ha visto oltre ai dirigenti e agli insegnanti anche genitori sul piede di guerra preoccupati per la continuità didattica. Si tratta di uno degli ultimi atti della giunta oscente che ha anche predisposto qualche variante al piano di dimensionamento scolastico che entrerà in vigore a partire dall'anno scolastico 2017-2018. La scuola Gianni Rodari, dopo le battaglie della dirigente scolastica Francesca Dasero e la petizione dei genitori, resterà accorpata all'istituto comprensivo Don Milani. Secondo la nuova geografia delle scuole, dunque l'istituto comprensivo Leonardo Sciascia comprenderà le scuole dell'infanzia Sciascia e Pantano, l'elementare Sciascia e la scuola media Giovanni Verga, per un complessivo di 1.391 studenti. L'istituto comprensivo Antonino Caponnetto, con 1.453 alunni complessivi, invece, comprenderà le scuole dell'infanzia Petronilla, Firio Real Maestranza, Urracasa e Leone XIII. La scuola elementare Caponnetto, Abbate e la scuola media Pietro Leone, quest'ultima appartenente all'omonimo istituto comprensivo da quest'anno in regenza, visto che non ha raggiunto il limite di 600 alunni. L'istituto comprensivo Don Milani, oltre a mantenere la scuola elementare Gianni Rodari, comprenderà la scuola media Don Milani, le scuole dell'infanzia Aldomoro, Viaturati, Don Milani e la scuola media Filippo Cordova, per un complessivo di 1.255 alunni. L'istituto comprensivo Lombardo Radice, invece, sarà composto dalle scuole dell'infanzia Martiri Duncheria, Lombardo Radice, Ex Omni e Faletra, dalla scuola elementare Radice e dalla scuola media Russo di San Secondo, per un complessivo di 1.262 alunni. L'istituto Vittorio Veneto, che in questi anni ha visto diminuire il numero degli alunni e dunque rischiava di perdere la personalità giuridica, sarà invece formato dalla scuola dell'infanzia San Domenico, dalla scuola elementare e media Vittorio Veneto, dalla scuola dell'infanzia elementare e media San Giusto, dalla scuola dell'infanzia Andersen e Calafato, dalla scuola dell'infanzia elementare e media di Santa Barbara e di Santa Flavia, dalla scuola media Santa Lucia e dalla Capuana, ospitata al secondo piano della scuola Santa Lucia, per un complessivo di 1.141 alunni. Il piano di dimensionamento, già prodato al tavolo provinciale del Libero Consorzio dei Comuni nel mese di luglio, è stato trasmesso all'ufficio scolastico provinciale, che dovrà a sua volta inviarlo all'assessorato regionale e alla scuola per l'approvazione definitiva. Sulla vicenda degli ombrelli decorativi a Gela, che hanno sollevato un vespaio di polemiche, interviene con una nota inviata alla stampa il segretario generale della CGLG, Legnazio Giudice. Una cosa è l'autonomia istituzionale, un'altra cosa è l'arroganza nelle scelte chiaramente sbagliate con tanto di impiego di denaro pubblico. Leggiamo nel documento. Una cosa è scegliere l'albero di Natale per casa propria, un'altra cosa è appendere ombrellini picchiatori a caduta libera. Stiamo parlando di soldi pubblici, gli stessi che possono essere impiegati per l'assistenza agli anziani, per il trasporto disabili, per aggiustare un marciapiede, per dare un contributo per l'allocazione ad una famiglia disperata, per ampliare il servizio di refezione scolastica. Insomma, 9 mila euro, scrive ancora Giudice, possono essere impiegati per tentare di aumentare la qualità della vita dei cittadini, non per metterla a rischio. Credo a questo punto che bisognerebbe deliberare un'assessorata alla logica e all'umiltà. La stessa umiltà nelle scelte contenute in una mia lettera aperta e inviata all'amministrazione. Vi è un tempo per tutto, la fase del gioco non è contemplata per chi agisce in nome del popolo. No, questa proprio no, operazione contro il turismo, costata 9 mila euro, conclude il segretario generale della CGL di Gela. Cambiamo ancora argomento, effimero all'anima importa l'armonia. Si tratta della denominazione di un'installazione artistica, il ricordo della giovane poetessa gelese Luigia Ferro, scomparsa tragicamente qualche mese fa. Sentiamo. Un'installazione artistica temporanea per ricordare Luigia Ferro. Lei, Federica Matuccio, nella vita è una regista cinematografica, nonché grande amica di Luigia Ferro. Con la quale peraltro avete collaborato, ha collaborato. Vuole raccontarci da dove nasce l'idea di questa mostra, di questa installazione artistica temporanea, da dove appunto nasce l'ispirazione. Che cosa intende raccontare dell'amica e dell'artista Luigia Ferro? Beh, l'idea nasce dal fatto di volerla ricordare, solamente da questo. Non ha niente di più, niente di meno. È di voler valorizzare la sua bellezza. Infatti tutto il significato dell'installazione sta nel titolo, di effimero. Una cosa che innanzitutto dà il significato della parola in sé che dura un giorno solo. Quindi l'installazione durerà dalle dieci alle mezzanotte, in modo che possa essere fruita da tutti nel modo più libero e semplice possibile. E poi perché la bellezza di qualsiasi cosa, anche quella più forte, più abbagliante, come era la sua, perché era una donna veramente ricca, bella esteticamente, bella interiormente, ha necessità di essere vissuta e di essere conosciuta soprattutto. E io così le ho voluto regalare un pezzettino di bellezza in più. È tutto qua, fondamentalmente. Le circostanze della scomparsa di Luigia Ferro sono veramente molto tragiche. Ciascuno poi vive il dolore metabolizzandolo a modo proprio. Qual è stato il suo modo di metabolizzare e semmai poi di volerlo condividere con tutti gli altri? Beh, il modo di metabolizzare una scomparsa di un'amica cara direi che è molto personale. Però io ho reagito donandole un pezzettino della mia arte, perché io so che con lei c'era un legame artistico e lei lo sa pure. Quindi questa è la cosa che io le voglio donare. Poi tutto quello che io ho sentito e provato non importa in questo momento, perché non è quello il fuoco di quello che sarà l'installazione. Qual è il ricordo di questa ragazza, di questa giovane donna artista, che aveva peraltro già pubblicato una raccolta di poesie? Sì, lei era un'artista in gamba veramente, con una personalità fortissima. Le sue poesie sono magnifiche. Non lo dico da amica, lo dico da lettrice, sì, che l'ha letta più volte. Lei era una donna bellissima, bella proprio, cioè non si può dire niente di Luigia. Era solare, era amica di tutti, infatti, tutti sanno chi è Luigia, perché Luigia era una persona ampia, questo posso dire, era grande. Aveva anche scritto un'opera che poi lei ha portato in scena, è diventato un'opera teatrale. Sì, però in realtà quell'opera lì è un racconto che fa parte di una raccolta che si chiama Nostra Signora dei Tarocchi, che è un'antologia di racconti, novelle, scritte da delle artiste gelesi. Quindi non era l'unica a far parte. Si è scelto il suo lavoro per una questione proprio di affinità, però l'opera in sé è tutta magnifica e il suo brano, sì, è stato fonte di ispirazione per il mio spettacolo teatrale. Ricordando Luigia, dunque, l'appuntamento per poter fruire e vivere questa esperienza multisensoriale, non diciamo altro, sarà una sorpresa, dove i cittadini possono recarsi? L'installazione avrà luogo in via Marconi 14 all'angolo di via Cairoli e sarà aperta dalle 10 di mattina a mezzanotte senza interruzione. Quindi partirà e si chiuderà quando si finirà l'installazione, appunto perché l'idea è che duri un giorno e basta. Fai la cosa giusta, differenzia i rifiuti, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi, mercoledì, dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione gli imballaggi in plastica e metallo, multimateriale, nell'apposito sacco trasparente. Cosa conferire? Plastica, piatti e bicchieri monouso in plastica, bottiglie di acqua e bibite, flaconi, taniche, dispenser e tubetti vuoti per detergenti, detersivi, shampoo e dentifricio. Prodotti per l'igiene della persona e della casa, baschette, contenitori, buste e sacchetti per alimenti, imballaggi in polistirolo, reggette e stringipacchi, blister, reti e cassette per frutta e verdura, contenitori con sigle PET, PVC, PPP, PS. Cosa conferire metalli? Lattine per bevande, scatole e lattine in banda stagnata, contenitori in metallo, pelati, tonno, mais, cibo per animali, contenitori di prodotti per l'igiene personale, tappi, coperchi e stampi per dolci in metallo, carta in alluminio di uso domestico pulita, contenitori in alluminio per alimenti puliti, bombolette spray vuote non pericolose, coperchi in alluminio degli yogurt, lattine con il simbolo AL. Come conferire il multimateriale? Gli imballaggi in plastica, assieme agli imballaggi in metallo, alluminio, banda stagnata e metalli, vanno conferiti puliti utilizzando l'appoggiato sacco trasparente. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Sarà presentato oggi alle 21.30 al Club Vela di Gela, il libro Social Gossip scritto da Francesco Pira e Antonella Cava. ad aprire i lavori saranno il presidente del club Luigi Nastasi e il vicepresidente responsabile delle attività culturali Sergio Antonuccio. Coordinerà il dirigente scolastico Agata Guelli. Interverrà Rita Salvo, docente di letteratura del liceo Eschile, presidente della FIDAPA. L'evento è organizzato in collaborazione con la libreria di Felicia Randazzo di Via Parioli. Un luogo raccolto intimo dove poter porgere l'ultimo saluto ai propri cari estinti al di là delle differenze culturali e religiose. Questa è l'idea della consigliera comunale del gruppo misto Valeria Laimo che ha proposto all'amministrazione la realizzazione al cimitero Angeli di una stanza del commiato. Una stanza che dovrà comunque rispondere a dei requisiti previsti dal decreto presidenziale del gennaio del 1997, la cui idea è stata sposata favorevolmente dall'assessore al ramo Maria Grazia Riggi, che si è già attivata per individuare i locali idonei per poterla realizzare. Tra questi, al vaglio del comune, anche i locali dell'ex chiesa Santa Maria degli Angeli. Lo aveva in mente già da parecchio tempo. È una forma di rispetto sia nei confronti di chi appartiene a religioni diverse, quindi buddhisti, induisti, musulmani, che così possono dare un degno salute ai propri cari prima dell'addio. Ma anche nei confronti di quei cattolici che possono avere il piacere di dire due parole dinanzi alla bara, dare un estremo saluto un po' più laico rispetto alla celebrazione in chiesa. Ritengo che sia una forma di integrazione culturale, ma anche religiosa. È una forma di rispetto, perché le ultime volontà del defunto devono essere sempre rispettate, quindi magari qualcuno ha una richiesta particolare e si può esaurire. Per quanto riguarda la sala, abbiamo già parlato con l'assessore competente al ramo, l'avvocato Graziella Riggi, e molto probabilmente è già stata trovata una sala. Spero che abbia i requisiti sanitari e tecnici previsti dal decreto presidenziale del 1997, che sia un luogo quanto il più accogliente possibile, perché il momento è sempre triste, quindi una sala che abbia anche una certa luminosità può essere di aiuto nei confronti di chi sta vivendo un momento difficile, quello di dire addio al proprio caro. Si terrà domenica 28 agosto prossimo alle 21 alla Rotonda Est di Macchitella a Gela, il premio nazionale riservato ai cantanti Eleonora Lavorre. L'iniziativa è dell'associazione Le Vision con il patrocino della Regione e del Comune. Un evento unico in Sicilia, orchestra dal vivo, ospiti nazionali, 20 voci scelte in tutta Italia. La manifestazione sarà condotta da Pamela Olivieri e Angelo Martini. Continua la rassegna musicale Blues & Jets e Muretti di Macchitella. Il prossimo appuntamento è previsto per domani alle 22.30. L'evento è patorcinato dal Comune di Gela. Di scena due band, Icargo e Roberto B & Friends, con la partecipazione straordinaria di Yolanda Vox. Suggestiva la location con i tavoli della creperia a lume di candela sotto le stelle. Ultimo appuntamento nell'ex Monastero delle Benedettine con l'iniziativa L'Estate Gelese con la musica colta, promossa dall'associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra in collaborazione con il Comune. Domenica 28 agosto prossima alle 21.15, concerto jazz del trio Angelo Locchiano alla tromba, Nuccia Scerra al pianoforte ed Emanuele Smecca alla chitarra. Adesso le ultime novità in casa Gela Calcio. Sentiamo. E' stato convocato per domani pomeriggio dalla dirigenza Bianca Azzurra un consiglio d'amministrazione per decidere se è il caso di continuare ad andare avanti e disputare il campionato in Serie D. Il Gela ha vinto il campionato di eccellenza il 17 aprile scorso, ormai più di quattro mesi fa. Scrivono dal club in un comunicato stampa e nonostante quest'enorme tempo a disposizione Abbiamo dovuto subire l'esilio a Licata nell'esordio di Coppa Italia di Serie D. Disastroso, ma il calvario non è affatto finito, tutt'altro. Le ultime sconfortanti notizie sul mancato inizio dei lavori per il rifacimento del manto in erba sintetica del Presti e la lettera drammatica di ieri della LND di Roma, con la quale chiede di conoscere la data di fine lavori per poter ispezionare finalmente lo stadio, preoccupano la società e gettano nello sconforto tutti i tifosi gelesi. Il presidente Francesco Tuccio, leggiamo ancora nel documento, ha convocato d'urgenza un consiglio d'amministrazione per giovedì alle 15 per valutare attentamente la situazione allucinante che si è venuta a creare a pochi giorni dall'inizio del prestigioso campionato nazionale di Serie D e decidere sulla opportunità o meno di prendere parte alla competizione. L'altra mazzata per gli sportivi gelesi è arrivata pochi minuti fa e riguarda anche l'addio del difensore Gerardo Strumbo. L'esperto centrale di difesa ha deciso infatti di lasciare il club per motivi personali. Lascia un messaggio su Facebook. Dispiace lasciare questa società, questo staff, questo splendido gruppo, questa città e soprattutto una tifoseria come questa che anche se in poco tempo ho avuto modo di apprezzare. Ma purtroppo a causa di seri problemi familiari ho dovuto a malincuore prendere questa decisione di rientrare a casa per cercare di avvicinarmi a casa e stare il più possibile vicino alla mia famiglia. Vi mando un in bocca al lupo per una stagione da protagonisti con l'augurio sincero che il direttore Martello insieme al presidente e al mister possano riportare presto Gela nel grande calcio. Per i tifosi del Gela Calcio dunque ancora nubi all'orizzonte. La speranza è quella di vedere infine triunfare l'azzurro. Con lo sport è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito fin qui. Appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci. Grazie per averci seguito.